no quel come se non è campo di forza ah ho capito oh cacchio ah ho capito qua come la faccenda fai subito ecco vai 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 oh cacchio no vai vai subito vai perfetto ce l'ho fatta ehi conosco quei pantaloni si eccolo qua ecco qual è tu conosci i pantaloni lei che cosa ci fa qui in questa galassia ma non posso anche controllare dove sono i guasti io li riparo solo di sicuro qualcuno in questa galassia lo so ma loro non sono in grado vengo pagato il triplo per fare un lavoro così difficile ehi ma quello cos'è qualche pazzo irresponsabile ha gettato nello sciacquone in questo modellino perfetto di quark è un po' rovinato ma è stato costruito bene vuoi comprarlo? ma anche no ecco qui amico ci vediamo più o meno tra un anno che intendeva dire con questo? oh cacchio ho fatto la fregna l'ho coprato perchè mi sembrava utile se ho fatto una stupiata giuro che sclero vai subito se non muori oh cacchio perfetto ce l'ho fatta perfetto ce l'ho fatta che l'ho fatta dai dai ecco fatto ecco fatto alza ah no non si alza certo che si alza fino alla cima fai subito no non ci ho fatta quindi mi conviene aspettare è questo che mi vuoi dire no e fai subito che non ho tutto il tempo da perdere per te muoviti e dai muoviti muoviti no speccato un'occasione fai subito oh alleluia una volta mi hai ascoltato eh no qua la lava non si alza mi sa però ecco gli evitati tutti ecco fai subito ah no l'hai evitato no non l'hai evitato nooo fai subito fai subito fai subito fai subito fai subito che palle calma e sangue e sangue freddo calma oh cacchio no ci ho fatta vediamo vediamo il filmato che vediamo 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 cacchio protopet e e imita i gatti in maniera orribile direi e dobbiamo cercare di salvarla dai tags d'accordo ci serve quella risposta e dobbiamo anche proteggerla ok vedo di scaricare le coordinate ah ecco e dai vado qua vi saluto a questo mondo eh a solo ok e la tua sorella non me ne frega niente cosa significa oh cacchio questa navi della tags for less a ore 13 è ora della resa dei conti non si trova il suo intanto un po' il 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 il